Ma non capisco perché... Ah intanto ciao a tutti Non capisco perché non mi... Ecco, non mi... Volevo dire una cosa, non me la ricordo Mamma mia, oggi che giornata, mi morina Ecco, siamo già messi male, eh Sì, doppio attacco Bravo, 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 vai Ah un altro, mamma E poi mia, doppio token, triplo attacco Vediamo un po' Ancora, via, via C'ho da recuperare le forze Ok, andiamo di qua Voglio andare di qua Di qua ci attendeva un avversario Pistola d'acqua Guarda un po' se mi freghi un po' di vita, eh Quando c'è tempo fregamela Vai, vai, usa, usa Perché la situazione è grave Colpo di coda Bene Mamma mia Oh, basta un po' rubare la vita altrui Beh, facciamo attacca a due Altrimenti questo non finiva più Dove saranno le scale? Non qui Oh, ma ce l'avete con me? No All'attacco a tre Ciao E allora andiamo in giù Semi di fuoco E intorniamo in su Andiamo No, la trappola, no Ecco Attacca Bene Tempra, inserisci nel cerchio di difesa E andiamo Ormai c'ho il cerchio di difesa Mi stanno facendo nera Qui c'è un bel bastone Ok Andiamo di qua Mi fa piacere proprio aver preso la strada giusta Spacchiamo Beccati questa azione Ancora azione Ancora azione E via Andiamo 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 Eccoli qua Le scale Sì, vai Oh, eccolo qui Il tesoro di Ralts Ecco Ora mi ricordo chi è Ralts Ecco, non mi ricordavo prima Quello che volevo dire prima E che non mi ricordavo di chi era il tesoro Che dovevo trovare Vedo che ci sono dei nemici Parecchi anche Ok Facciamo così Tac Vai A tre Tacco tre E sì, concentriamo su uno Bene Ascoltami Beccati questa Colpa di coda Che così Diminisci la difesa E poi ti do anche Questa valla pittola Quella che non ha fatto niente Bene Bene, ciao Andiamo in su Sinistra Mi fa piacere Che l'ho trovata subito A primo colpo Parecchio L'oggetto sarà qui Assolutamente no Qui c'è un nemico Però intanto mi lavo Questo Lo stato Di confusione Allora Pistolati Niente Non ne ho fatto niente Bene Meno male ci ha pensato La tipa là No Inzioniamo Inzioniamo Oh là là No le scale No Le scale no La trappola Mamma mia Sono addormentata Meno male Vai Attacco a tre Ma è possibile Mi tocca fare il giro Di sette chiese Per trovare Questo oggetto Smarrito Ma guardate E qui Sì è qui Ale Ottimo lavoro Abbiamo trovato Il tesoro Di Rals Ok Ok Yes Ottimo E aumenterò E aumenterò Anche i collegamenti Connessi ai Rals Vai Quindi nuova Nuove Nuove Una nuova specie Che fa nove Aspetta Volevo andare via No Va bene E a questo punto Finiamo il dungeon Questa volta Non sono andata via Dal dungeon Prendimento no E vabbè Andiamo a finire Il dungeon Quanti piani è Questo dungeon Hai completato la missione Potrebbe esserci ancora Qualcosa a fare Qui avanti Vuoi uscire dal dungeon Certo Esci Sì 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 Vai Finita la missione Che faccio Cosa ci faccio Ha portato a termine La missione del dungeon Ma nessuno Che aumenta L'esperienza Ok Bene bene Una bella Anche Un pacchetto per noi Dal Dal Lì Dal negozio di caffè Che non Volevo dire Nome del personaggio Ma Mi è passato di mente Nove specie Libere Che libere Conosciute Vediamo anche Che cosa succede Infatti stasi Non c'è che succede Stasuzione terribile Hanno trovato il maestro Oh oh Come l'hanno Vicino al lago Era svenuto Sono forse a dirtelo Andiamo a vedere Andiamo a vedere Come sta il maestro Oh c'è punchman Punchan Come sta il maestro Sta bene sembra Sta parlando con gli altri Da un bel po' Non si ricorda proprio niente Non molto Solo che avevo un gran paura Quando mi ha portato via E rinchiuso in un posto buio E c'erano delle fiamme blu Che esperienza terribile Poveraccio Sembra traumatizzato Non posso pensarci Avesse stato spaventoso Fiamme blu Ma allora erano davvero Fantasmi Che fantasmi? Eh? Fantasmi? Oh ora ci fanno paura Figurarsi Non ho paura io Su su Calmiamoci Capisco che gli eventi recenti Abbano portato un senso di inquietudine Ma come vedete Maestro è tornato al villaggio San e salvo E anche il vicino Se sta bene Ha solo bisogno di un po' di riposo Dopotutto Non è successo niente grave Non c'è molto da allarmarsi Sì sì effettivamente Ma chi garantisce Che non succederà qualcosa di terribile? Sì certo Dobbiamo restare vigili Per il momento Suggesto di stare lontani Dalla scuola Di notte In questo modo Dovremo evitare altri incidenti in genere Vai Tutti a casa Oh oh Chissà che cosa accadrà Chissà chi ha fatto questo Bello scherzo al maestro Eh già È proprio una storia strana E certo Ci sono dei mezzi fantasmi no? E a riborda Con questi fantasmi Ho paura Siete proprio Delle mezze calzette Sì sentite che parla Anche lui ha una paura Ha sempre paura Quel pifone Però fa finta di non esserlo Dopotutto siamo in vacanza Cerchiamo di divertirci Ok Bye Uh andiamo a prenderci Il regalo Della missione Oh eccoci C'è un po' di tensione in l'aria Ma cerchiamo di tenere la calma Bevuto il caffè Gira mondo Eh sì Salute Ritira le ricompense Ma dove sono qua Le ricompense Ah eh vedi Che anche prima Mannaggia Vado a vedere No anche prima che L'altra volta Soldi Soldi degli strumenti Ritira Attrazione Ecco Due attrazioni Ritira Vediamo un po' Vediamo un po' Vabbè salviamo Come faccio a utilizzarla Strumenti Insegna Attrazione Strampalato Dove vuoi andare Al campo strampalato Soccorso Soccorso O se no Piano miniatura Che cosa sarà Prato miniatura Strumenti missione Questo è un campo strampalato Missione di soccorso Andiamo a vedere questo Dai Scegli i membri Ospite Petitilil Scegli gli os Cambiamo Così Però io volevo portare anche Stasi C'è da dire Che però è bassa Stasi Dai Attacco Subito Lo voglio provare A 4 Anzi a 3 Dobbiamo accompagnare Ah si è vero Petitilil Voleva andare a conoscere Un pokemon Però non aveva il coraggio Di andarci da solo Ora me lo ricordo Andiamo Andiamo Eccole le scale Battete un attimo voi Che io volevo prendere Vabbè Ora vi aggiungo Dai Vediamo se da qua giù Mi ci arriva la frustata No è già finita Vai vai Chiappa la mia Inserisci Cerchi di pesa Vai Torni anche i soldini Vai Andiamo di sopra Sì al piano Sopra la stanza Campo strampalato 2 Andiamo di giù Però soldini Che fanno sempre comodo Sperto che comprai Il salvadati Tocca Vai Attacco a 2 E ciao No no Non ciao E c'è sempre Ah è Frustata Vai Vai Ciao Ciao Finalmente Sono salita a livello 15 È una vita Che Parassieme Perché c'è una pianta parassita vicino Al bersaglio Sì Sì Questa la voglio No no Che dimentica Questa Dimentica Sì Vai 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 Perfetto Tanto è erba E quindi Erba Sono anch'io E via Possiamo Ok Andiamo giù in fondo Chi c'è qua giù Che ci sta attaccando Aiuto Dove sono Ma Dove sono Ma sono giù in fondo Bene Stasi attacca la briga Mi raccomando Quando c'hai tempo Dai Ok C'è la scala qua No Segretta Andiamo in sotto Giro largo Oh eccola qua La scala Prendiamola subito Ciao Andiamo di sopra Vai Andiamo di sotto Eccoci L'avversario L'abbiamo trovato subito 25 di botta Un'azione Per favore La Vai Ciao Ciao Brava stagio Così Che tipo Inserisci Check difesa Vai Andiamo qua A destra Ancora Ci attacca E ci attacca Eccolo qui Un piti di strello Ale Vai Prendi il bastone Brava Stasi Andiamo Andiamo in su Anche perché in giù Ci poteva andare A sinistra Ecco Ancora Siamo all'incrocio Aspetta Allora andiamo in su Aiuto Bene Taccca due Perché Più non si può C'è poco spazio Abbiamo addormentato Eh Morton Vai Grande Stasi Ancora non si è salita di livello Stasi Allora andiamo Allora andiamo A sinistra Vedo c'è un pokemon Che ci sta inseguendo C'è un ragnetto qua Ok Prostata Bell'attacco Anzi guarda Tadam Ok Ok Oh Ehi Ma fermi tutti Ti do un bel attacco A due E voilà Ce l'abbiamo fatta C'è un altro nemico Ma chi è morto qualcuno È morta la bimbina No abbiamo È morto un poimo Non me ne ero mica accorta La frustata Eccola Non me ne ero mica accorta E me ne era morto il poimo No è qua È qua giù Cioè è perso Vediamo un po' E va di sfera Il nostro di sfera Non ci sono altre sfere Per richiamare No Andiamo a richiapparlo Vabbiamo Eccola Eccola Eh Ti avevamo persa Ho perso Andiamo in su Va Questo dungeon Cioè dove sono le scale Niente Non sono qui Andiamo in giù Eccoci Abbiamo trovato il nemico Vai Stacco a due Una bella azione Ancora azione Dai Vai Paras Oh Un bel 53 E andiamo Fermi tutti Mangiamoci una mela Vai Andiamo Ma dov'è Allora è qua giù In fondo Mamma mia Oh Qua giù Niente Non sono nemmeno qui Le scale Ma dov'è Eccole Finalmente Le scale Vai Sarà qui Al campo Piano 4 Piano Campo Strampala Non è qui Sì Hai raggiunto il piano in cui si trova il pokemon K Ah non è Quindi dobbiamo salvare un pokemon Tutto questo macello Salvare un pokemon Ma io guarda Ecco Perché mi fai questo loco Ti devi girare in direzione in cui voglio tirare la mossa Peppa voi Peppa voi Ecco Ah Meno mai Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta lui Hanno fatto loro Io Ero Presa nel Girarmi dalla parte giusta Sono in confusione anche Frustata Eh vedi la parte opposta Si sta così Vediamo se mi giro la parte giusta No si è già la parte giusta Sono morto Ecco vedi Sperate Sbagliate Non c'ho la cura per la confusione Forse si Boh Non male è passata la confusione Perché veramente Ma parasonno Sì Ma io Quelle che trovo e ci ho posto me le metto Poi dopo si vedrà Oh basta un po' Tieni Ok Vecca che questo ha stato E Morso E ciao Di qua Petra Ma se Ci sostituisci Vai Questi girati Qua No ti devi girare Non è che devi andare in giù Mamma mia Questo Ok Dobbiamo far Chi c'è? Ah qua giù c'è il pokemon Messo male Vabbè Vabbè Accogliamo la roba E voilà Svegliamolo Mela per te Mela per te Aperta Ho detto no Ma invece volevo dire Sì Mela per te Sì E vai Munchlax Salvato Ottimo Lavoro Yes Che bontale Una nuova specie Così si aggiunge Al mio Alla mia collezione Si aggiunge anche Una nuova connessione Tutto un'ossione Tutto un rimacolone E andiamo Ok Marshtump Vabbè Le connessioni Che bellezza Sempre più connessi E via E vai Il giro di conoscenza Si è allargato Sì sì Possiamo anche andare via Sì sì Andiamo andiamo Tranquilli E via Io vado a salvare Faccio la mia Missione E vado a rinforzare Ciao Ciao Però oggi Non può fare altre cose Certo Siamo stanchi Abbiamo fatto un grande viaggio Due missioni Ma che si scherza Salve il gioco Continua Benissimo Allora Adesso Che siamo arrivati A questo punto Io vi saluto Vi ringrazio per aver visto il video Fino a qui Spero vi sia piaciuto Mettete un mi piace Se vi è piaciuto Commentate Adesso Ciao a tutti Al prossimo video Ciao a tutti